Avevano trasformato biciclette in ciclomotori, in pazza la moda della bici appedalata ma contraffatta per alcuni soggetti che credevano di farla franca a Reggio Calabria. Così la polizia locale, grazie a un servizio di controllo per capire cosa ci fosse dietro quei velocipedi potentissimi e velocissimi, con l'ausilio di un funzionario della motorizzazione civile nell'ambito del programma Focus Andrangheta, ha scoperto e sequestrato i quattro mezzi trasformati in deveri e propri ciclomotori, sanzioni salatissime per oltre 2.000 euro cada uno per i conducenti, oltre il sequestro del veicolo. Le attività implementate in pieno centro cittadino continueranno a tutela degli utenti deboli della strada.